Ciao, sono Lorenzo, un giocatore preferito del Cilio e dei Angelis perché fanno il ruolo e volevo chiedersi qual è il suo record di ruolo. Ciao! Ciao Lorenzo, innanzitutto grazie per questo bellissimo videomessaggio. Per quanto riguarda il mio record di gol appartiene alla stagione di due anni fa quando appunto giocavo nel Ciliverge. In quella stagione sono riuscito a realizzare 23 gol. Per quanto riguarda te invece, sono contento che tu faccia il mio stesso ruolo perché fondamentalmente è il ruolo più bello del mondo e vedendo il tuo video ti dico che sei sulla buona strada affinché nella tua carriera tu possa realizzare quanti più gol possibili. Detto questo ti auguro una buona estate, ti mando un abbraccio. Grazie a tutti!